Buonasera, ben trovati ad Alimenti Fermatempo in compagnia di Giampaolo Tocco. Buonasera Giampaolo, grazie per essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi per l'invito Barbara, svelo, parlavamo della differenza tra gli uomini e le donne, gli uomini che pensano di fare tutto e si lamentano davanti e le donne invece che si occupano di tutto e stanno zitte e vanno avanti e tirano avanti una famiglia e si parlava proprio della Blackburn. Guarda caso la scoperta più importante per me degli ultimi tre secoli l'ha fatto un gruppo di donne, Apple, Blackburn eccetera, che ha scoperto una cosa importantissima. Noi uomini siamo fatti così, noi ci occupiamo delle cose internazionali ma nel concreto a casa l'amministrazione e nella ricerca le donne hanno portato importantissimi frutti e vanno ammirate per questa loro concretezza. Tra l'altro appunto la Blackburn ha fatto una scoperta non da poco, è premio Nobel, però partirei, magari la acceniamo dopo, la Blackburn diciamo che nelle piante, come dice appunto il titolo di questa puntata, c'è la chiave della nostra vita. Cosa significa? Nelle piante c'è la chiave della nostra vita. C'è questo disegno meraviglioso che noi non riusciamo a comprendere a pieno perché in un bicchiere non ci può stare un intero oceano, in un cervello umano non ci può essere un concetto della creazione che prevede l'infinito. Lei pensi a una cosa che non ha inizio e va dritta per quello di là e quando finisce? Mai. È un concetto che non entra nella nostra mente, il nostro cervellino è troppo limitato per capire un concetto così grande, così immenso, così infinito, l'eternità. Un tempo che non ha inizio e non ha fine, non riusciamo a capirlo, lo diciamo, proviamo a immaginarlo ma non ce ne rendiamo conto. Ci sono cose invece delle quali bisogna rendersi conto e cioè che nel disegno della creazione di un universo sconfinato c'è come progetto finale la comparsa in questo infinito, in queste tenebre, in questo silenzio, la comparsa della luce, dell'elettromagnetismo, della materia e poi della materia vivente, e poi della materia vivente pensante, che è l'uomo. E' un progetto strepitoso, straordinario. Qualcuno ci vede la religione, il dio, i dieci comandamenti, l'islam, il cristianesimo, il panteismo, il buddismo. L'uomo è curioso, vuole sapere, si chiede com'è possibile che nell'universo esista un essere, noi, che pensiamo, che siamo coscienti della nostra vita e sappiamo che finirà. E ci chiediamo ma dopo cosa accadrà? Ma ci sono concetti molto più semplici, straordinariamente importanti, misteriosi, meravigliosi, ma molto più semplici. Cominciamo a chiederci grazie a chi o grazie a che cosa noi siamo comparsi con la nostra intelligenza, con i nostri sentimenti, con la nostra curiosità, con la nostra cultura in un universo così sconfinato. Lei sta dicendo che c'è un disegno, insomma c'è un progetto per noi. Esattamente sì, io mi rifarò sempre al mio divino Galileo Galilei, che è l'inventore della scienza, ma è anche colui che dice più mi immergo nella scienza, più creo questo protocollo che renda scientifico ciò che io scopro, e cioè deve essere dimostrabile, riproducibile e quantificabile. Beh, più io scopro, determino il metodo scientifico, cioè quello che ti dice io credo, vedo, quindi credo. Vedo, quindi credo. Che sembra un concetto lontanissimo dalla filosofia e dalla teologia? No, no, per lo stolto, per l'ateo, che è l'unico veramente fanatico, il quale determina che non esiste un creatore. Ed è questa convinzione da dove ti arriva. Chi invece crede nell'esistenza della creazione di un creatore non lo fa per fede, Barbara. Lo fa per evidenza scientifica. Le leggi che rigorano la trazione dei corpi celesti, la gravitazione, gli campi elettromagnetici, la luce, sono leggi che Planck scrive a quattro equazioni e ti dimostra che queste leggi funzionano a casa quando accendo l'interruttore e accendono nella galassia più lontana. Queste leggi non possono essere frutto del caso, ma la comparsa dell'uomo che io credo sia il punto, l'obiettivo finale della creazione, cioè la coscienza. Lei pensi, scusi se mi perdo, noi non saremo comparsi se non ci fossero state le piante. Ma non è che siamo comparsi grazie alle piante perché le piante sono nate per caso e quindi per caso in conseguenza siamo comparsi noi. No, fa parte di un progetto di un creatore che probabilmente, guardi, la dico grossa, però a me piace romanzare i miei pensieri. Era stanco di stare solo. Lei immagini di essere una grande compositrice, magari lo è, di musica e aver scritto una sinfonia straordinaria o di essere la più grande pittrice della storia dell'umanità e ha fatto un capolavoro. Ostra, e non c'è nessuno che lo vede. Non le dà tristezza. Ho fatto un capolavoro e nessuno lo vede. Ho scritto una sinfonia e nessuno la sente. Cioè, la lacrima che scende ascoltando un brano straordinario di Von Weber, di Mozart, di Beethoven, e nessuno ascolta quella sinfonia e si commuove. Non ha motivo di esistere quella sinfonia. E lei, che l'ha creata, è angosciata. E dice, ma come? Io ho creato la sinfonia più bella del mondo e non l'ascolta nessuno. Deve ascoltarla qualcuno. E comincia a crearsi un pubblico e a dire alle persone, venite, venite al teatro tal dei tali, che voglio mettere in scena la mia composizione, la composizione più bella della storia. Voglio farvi vedere il quadro, il dipinto più bello della storia. Ho scolpito la pietà di Michelangelo, Michelangelo scolpisce la pietà e non la guarda nessuno. È un peccato, no? Allora, il Dio, che tutto può, il creatore, che dal nulla decide di creare un universo. Non lo fa mica a caso, diceva Einstein. Dio non tira i dadi. Il creatore non tira i dadi, è quello che esce e esce. Ha un progetto. Questo progetto inizia a 13 miliardi e mezzo di anni fa e 500 milioni di anni fa prepara la venuta dell'essere umano sulla Terra. Per far comparire la vita c'è bisogno delle piante. Nelle piante c'è la chiave della nostra vita. Senza piante noi non saremmo venuti al mondo e una volta al mondo senza piante noi non potremmo sopravvivere. Abbiamo bisogno di respirare. E noi risperiamo grazie all'azione clorofiliana delle piante. Noi abbiamo bisogno di mangiare e grazie ai vegetali noi mangiamo. Noi ci ammaliamo e grazie alle piante possiamo curarci. Il problema grosso dell'uomo è stato che ha capito che uno studio dedicato alle piante non lo avrebbe fatto arricchire. Difatti la differenza fra me e le aziende farmaceutiche è che loro hanno fatturato i miliardari e io corro in giro per l'ufficio a spegnere le luci perché se no alla fine del mese non si paga le bollette. La differenza è questa. Loro hanno capito che creare la chimica avrebbe portato vantaggi economici. La possibilità di brevettare quella molecola. Un'ortica, un artiglio del diavolo, un eugenolo, un basilico tulsi, una curcumina, un redberry selvatico non sono brevettabili. Li ha creati il creatore a disposizione dell'umanità. Ma bisogna studiarli. E investiamo i soldi per studiare una roba che non è mia. No, fanno le aziende farmaceutiche. Dile benedica perché ci aiutano nei momenti difficili. L'obiettivo invece dell'illuso dell'erborista è andare a leggere, a conoscere le piante per scoprire cosa il creatore ha messo in quelle piante e rendersi conto che da quelle piante dipende la nostra vita, la nostra salute, la nostra forza. Perché da quelle piante noi possiamo ricavare delle sostanze che ci regalano benessere psicofisico. Porca miseria, non c'è prodotto della natura che non abbia in sé dei principi attivi essenziali per la nostra vita. Pensa, noi mangiamo distrattamente un po' di insalatina. Se mi porti dell'insalatina, mi dia due finocchietti, dai, mi dia due la panella, mi dia l'asparago, mi dia il carciofo, mi dia il radicchio di Treviso. Perché Dio quando ha guardato giù ha visto Treviso e dice, ah che bella. Allora lì ci facciamo il radicchio, un radicchio di Treviso. La salute all'interno di queste coste bianche con il finale rosso, gli antiossidanti che ci sono lì dentro. Allora una natura che in ogni sua manifestazione contiene, in ogni suo scrigno, contiene un segreto che serve alla nostra salute, alla nostra longevità, al nostro benessere, alla nostra vita. Certo, e in particolare ci sono due sostanze sulle quali noi concentriamo l'attenzione e di cui parleremo tra pochissimo dopo una breve pausa pubblicitaria. Il laboratorio ringiovanimento di erbe medicali presenta gli alimenti fermatempo che ringiovaniscono l'intero organismo proteggendolo contro quasi tutte le malattie. Gli alimenti fermatempo ringiovaniscono l'intero organismo proteggendolo contro quasi tutte le malattie. Energia, benessere e salute, senza dolori e infiammazioni. Non è un sogno? Oggi è la realtà scientifica che rivoluziona la tua vita. L'ossidazione e l'infiammazione, infatti, sono le cause di quasi tutte le malattie, dell'invecchiamento e del dolore. Il redberry palustre selvaggio del Quebec e la curcumina vegetale HBA dell'isola di Java sono i due alimenti fermatempo, antinfiammatori e antiossidanti che ringiovaniscono l'organismo e proteggono dalle malattie, eliminano la stanchezza e tolgono i dolori muscolari e articolari. Nel laboratorio ringiovanimento di erbe medicali nascono gli alimenti fermatempo, per la salute, il benessere e l'energia, a qualsiasi età. Chiama subito per verificare la disponibilità dei prodotti e prenotare l'offerta speciale di oggi. Gli alimenti fermatempo, oggi, in offerta a Kit Famiglia. 3 confezioni di Usa Redberry più una confezione di curcumiele da 110 grammi in offerta speciale a soli 99 euro, invece dei 151 euro del listino. Ma non perdere l'offerta Bonus Salute Alimenti Fermatempo, che oggi consente di acquistare 6 confezioni di Usa Redberry più una confezione maxi di curcumiele da 230 grammi, a soli 179 euro invece dei 308 euro del listino. E su tutte le offerte la spedizione è gratuita. Usa Redberry a base di Redberry palustre selvaggio del Quebec e curcumiele a base di curcumina vegetale HBA dell'isola di Java. Sono i due preparati alimentari che da oltre 27 anni consentono ai nostri 38.000 assistiti di stare bene, in energia, in piena salute, senza dolore di alcun tipo. Usa Redberry e curcumiele sono i tuoi alimenti fermatempo, senza effetti collaterali e privi di controindicazioni. Assumili tutti i giorni! Da uno studio della dottoressa Blackburn, premio Nobel per la medicina, nascono nel laboratorio ringiovanimento di erbe medicali gli alimenti fermatempo, a base di Redberry selvaggio del Quebec e curcumina vegetale HBA dell'isola di Java. I miei alimenti fermatempo, Usa Redberry e curcumiele sono alla base della salute, del benessere e dell'energia. Le sostanze naturali che utilizziamo per realizzare gli alimenti fermatempo provengono esclusivamente da aree totalmente incontaminate del pianeta. Ecco perché gli alimenti fermatempo del laboratorio ringiovanimento di erbe medicali funzionano davvero, funzionano subito! Bene, sei rientrati in studio, Gianpaolo. Dicevamo che la natura ci aiuta e ci preserva in tutte le nostre forme, nel nostro benessere, nella nostra fisicità e anche a livello psicologico. Lei nel corso della sua vita si è occupato, l'abbiamo già detto altre volte, di studi, di ricerca nel campo erboristico e ricordo che tempo fa si occupava di tante sostanze presenti in natura. Poi a un certo punto si è concentrato solo ed esclusivamente su due. Perché? Perché ha cambiato la mia strada la ricerca, la scoperta, la pubblicazione meravigliosa della dottoressa Blackburn, di cui si parla poco perché la Blackburn ci abitua a stare bene senza spendere soldi, ci abitua a stare bene senza essere dipendenti da un sistema sanitario che da una parte è amirevole e merita tutta la nostra considerazione, dall'altra parte merita un po' di critica. Perché quando la ricerca diventa business non va bene. Allora, purtroppo la farmacologia purtroppo la farmacologia ha visto nel farmaco il fatturato e non la risoluzione dei problemi degli umani. Ecco, in quel momento si è volgarizzata la vita professionale, ma anche la mia vita personale. È cambiata con la scoperta della Blackburn, ma non nel 2009 quando ha preso il Nobel che io ho festeggiato come se l'avessi preso io perché ho tifato per le ricerche di queste donne un gruppo di donne che lavorava nel mondo in vari laboratori e si tenevano in contatto tra loro con un obiettivo arrivare alla scoperta scientifica. Non al fatturare, non al trasformare in denaro, ma l'obiettivo era fregiarsi e pregiarsi di una scoperta scientifica secondo me la più importante degli ultimi secoli, i telomeri. Cioè quelle parti, quei corpuscoli del nostro organismo che proteggono i cromosomi e dai quali dipende la nostra longevità e la nostra salute. Lei li scopre, scopre chi è che accorcia questi telomeri riducendo i nostri anni di vita, riducendo la qualità della nostra vita, innescando malattie e dolore. E ha capito che le due cause dell'accorciamento dei telomeri, quindi dell'accorciamento della nostra vita, della compromissione della nostra salute, sono l'ossidazione e l'infiammazione. In quel momento io, da erborista e da titolare fondatore dell'aziendina, mi ero dedicato alla ricerca di quei vegetali, cortecce, radici, fiori, piante, che hanno principi attivi che la scienza ha definito idonei, efficaci nel rimediare a quei problemi. Vuoi il dolore articolare, vuoi il dolore muscolare, vuoi l'affaticamento epatico, renale, cardiaco, circolatorio, vuoi un invecchiamento cerebrale. Ecco, tutti i problemi che derivano da una vita che non sempre segue dei ritmi corretti, un'alimentazione, uno stile di vita, eccetera. Le preoccupazioni, i dispiaceri. E allora, da buon erborista, etico, corretto, onesto, dolore, artiglio del diavolo, basilico tulsi, le varie sostanze che la natura ci offre. Poi arriva Blackburn, che dice, guarda, che quasi tutti i problemi dell'umanità, quasi tutti i problemi degli esseri viventi, dai problemi cardiovascolari, ai problemi cerebrali, ai problemi tumorali, ai problemi degenerativi, alle malattie autoimmuni, ai problemi muscolari, tendinei, ai problemi degli organi, come il fegato, come i reni, come l'intestino, come lo stomaco, derivano da due cause orribili, l'infiammazione e l'ossidazione. Allora, sempre per il concetto mio, che nulla nell'universo è stato fatto per caso, che nulla è caos, che tutto è programmato, che tutto è frutto di un progetto, di un creatore che ha scritto equazioni matematiche. Barbara, gli scienziati, gli umani, hanno scoperto leggi, leggi, riassumibili, con delle equazioni matematiche, ma le hanno scoperte gli uomini, chi le ha scritte? Un'equazione che mi spiega quali sono le leggi che regolano la luce, i campi elettromagnetici, la trazione, i campi gravitazionali, non possono essere frutto del caso, sono troppo logiche matematiche. Quindi noi non inventiamo nulla, scopriamo solo. Scopriamo. Quelle leggi hanno voluto che nella natura ci fossero tutte le sostanze che consentono prima di tutto all'essere umano di comparire su questa terra. Senza piante noi non saremmo comparsi. Perché non c'era l'ossigeno? Le piante hanno creato l'ossigeno che ha consentito agli animali di comparire su questa terra. Poi di nutrirsi, quindi di respirare, di nutrirsi e di curarsi. Perché la natura sa perfettamente che noi avremmo avuto problemi di infiammazione, di ossidazione e ha preparato l'ambiente idoneo per consentirci di avere tutti gli strumenti per riuscire a superare questi inconvenienti. Lei pensi ad un bambino appena nato. Un bambino appena nato arriva, si guarda intorno e ha il lettino o straga proprio della dimensione sua. Ha gli abitini dentro l'armadietto, c'ha l'armadietto, la cameretta, la casa, il tappeto dove giocare. Cosa pensa un bambino? Pensa che fortuna che ho. Sono arrivato qui, sono venuto al mondo e guarda ci sono gli abitini, sono femminucce e ci sono gli abitini rosa. Ai miei tempi o erano rosa o azzurri o verdi. Quando la mamma non sapeva il sesso del nascituro si comprava i vestitini verdi. Dopo man mano che la pancia è a punta, è larga, è grossa, è maschio e questo bambino dice sono una bambina e c'è gli abitini rosa. È un caso. Il mio lettino proprio della mia dimensione è un caso. Le mie copertine, le mie scarpette, i giochini, il carillon, non è un caso. La mamma sapeva che stava per arrivare la sua bambina e gli ha preparato il piumino, la culla, i vestitini, i giochini, i carillon, le fiabbe che le racconterà nel tempo quando sarà più grandina. E solo dopo se la bambina è intelligente capisce che tutto quello che ha trovato non era un caso. Era stato costruito da sua mamma per consentirle di venire al mondo e di trovare un mondo confortevole. A misura sua, insomma. A sua misura. Lo stolto viene al mondo e pensa Ah, che culo c'ho l'ossigeno. Ah, strano. Ah, da, ho fame e c'ho da mangiare. Pensa che fortuna. Mi fa male l'articolazione, c'è l'artiglio del diavolo. Guarda che è una bella fortuna. C'ho un'infiammazione, ho la curcumina. Ho problemi agli occhi, c'ho il redberry. Ma guarda che fortuna. Non è fortuna. Un creatore ha preparato l'ambiente in cui tu potrai venire al mondo e potrai avere una vita agiata, confortevole, piacevole. Le foreste non sono fatte solo per essere ammirate e contemplate e per metterci in pace col nostro spirito. Un cavallo che galoppa, un gregge di pecore e gli agnellini che corron dietro alla mamma non sono lì solo, solo, anche per questo, ma non sono lì solo per farci godere spiritualmente di qualcosa di bello. Una musica stupenda non è solo per farci venire giù la lacrimuccia o per darci euforia. Un bel dipinto non è lì solamente per farmi venire le crisi di invidia nei confronti di un genio che ha saputo fare così tanto. Noi sappiamo che qualsiasi cosa accade dalla musica musicoterapia ai colori la cromoterapia tutto è stato congegnato e progettato da un creatore perché noi riusciamo a vivere bene a stare in salute perché l'obiettivo del creatore è la vita. Certo, quindi tra le tante cose che ci ha dato ci ha dato appunto il red berry e la curcumina. Il red berry selvatico e la curcumina. tra le centinaia di sostanze che ho trovato che ho esaminato che ho utilizzato noi facevamo tantissimi prodotti poi ho scelto perché devo ai miei assistiti consigliare 18 prodotti uno per i dolori articolari uno per i dolori muscolari uno per l'intestino uno per i problemi cerebrali uno per ringiovanire importantissimo ringiovanire per togliere i dolori per riattivare il fegato per togliere l'infiammazione ai reni per lo stomaco per l'intestino perché se c'è uno studio meraviglioso della Blackburn che ci dice che tutte queste problematiche nascono da un invecchiamento precoce l'ossidazione e dagli stati infiammatori che accorciano i telomeri e allora tra le mille sostanze negli ultimi decenni mi sono innamorato del re e della regina del redberry selvatico e della curcumina i potenti ringiovanenti anti-infiammatori per vivere meglio e più a lungo che dovrebbero essere utilizzati tutti i giorni e non hanno effetti collaterali questo lo sottolineiamo sempre nessun effetto collaterale anche perché tranne rarissimi casi io non faccio più integratori che io credo debbano essere prescritti dal medico faccio preparati alimentari come insegnato dal padre della medicina moderna che sia il cibo il tuo farmaco certo in questo caso lo è in maniera straordinaria benissimo grazie a Gianpaolo Tocco per essere stato con noi l'aspettiamo alla prossima puntata volentierissimo grazie a voi arrivederci grazie a tutti